Nel mese di marzo dell'anno 2011, nell'ambito delle manifestazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, la rupe di Agropoli, su cui si erge il borgo antico, è stata illuminata con i colori della bandiera italiana. Tale iniziativa ha trovato notevole e straordinario riscontro, per l'evidenza data ad un posto unico e particolare della città di Agropoli, riscontrando tra l'altro grandi attrattività turistiche non solo, ma ad oggi purtroppo, e da circa due anni, l'illuminazione è spinta, poiché la stessa non comporta, a detta del consigliere di opposizione Emilio Malandrino, un impegno di spendio di risorse economiche e delle casse comunali, e considerato che sono tante, alcune delle quali verosimilmente discutibili, le iniziative che l'amministrazione comunale finanzia quotidianamente con impegni corposi e sostanziali, Malandrino chiede di voler valutare la possibilità, se non ritenuta eccessivamente gravosa, di illuminare nuovamente ed in via definitiva la rupe, con proiezione verso il centro storico, considerando anche l'indiscutibile effetto scenico relativo ad uno dei posti più visitati e caratteristici della città di Agropoli, oltre che di notevole interesse turistico.